Ciao ragazzi, in questo brevissimo video di oggi vediamo l'esterno coscia, sempre su un tappetino, quindi ti basta solo questo. Attenzione, stesso discorso che spiegavo nell'interno coscia, se hai problemi sulle articolazioni sulle spalle e che si affaticano molto, ti consiglio di creare, guarda bene, il cuscino, quindi creare proprio il cuscino con il braccio e poggia bene il collo, così il collo rimane neutro. Attenzione, in questo caso sempre il piede a martello, appoggia bene la gamba a terra, insomma guarda bene l'esercizio, se hai qualche domanda mi scrivi sotto, tu intanto ti iscriverai al canale, giusto? Oppure al massimo lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima, allenati bene, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!